Metti un reparto di pediatria pieno di bimbi dai faccili tristi, desiderosi di ritornare il più presto possibile a casa, e metti che all'improvviso questi vedano sulla facciata dell'ospedale arrampicarsi Spider-Man, scavalcare Batman insieme a Catwoman e Superman. È l'evento organizzato alla mezza terme dall'associazione di volontariato VOLA, che d'oggi in poi proporrà ai piccoli degenti dei momenti di intrattenimento che vedranno protagonisti gli acrobati eroi. Si tratta di operatori specializzati in edilizia acrobatica e sportiva. Un nuovo servizio offerto dall'associazione VOLA volontarii Lametini, ma non solo per l'ospedale Giovanni Paolo II. Il nostro intento è andare anche all'Annunziata a Cosenza, al Pugliese, al Ciaccio, a Catanzaro, e dove ci chiameranno, perché è giusto condividere la gioia degli acrobati e del sorriso con tutti i bambini che, ahimè, non per loro volontà, ma per la malattia si trovano nelle pediatrie. I bambini sono stati molto meravigliati da vedere questi personaggi dei fumetti pronti a calarsi dai balconi. È stata una bella cosa. Penso che ormai l'aspetto ludico faccia parte del piano di cura dei bambini. Oltre alla professionalità degli operatori c'è bisogno di rendere l'ambiente idoneo, perché l'ospedalizzazione rappresenta sempre un momento traumatico per il bambino e per i suoi familiari. Piziano Abbagnato per la CNews24.